Siamo a venerdì, ultimo giorno della settimana, iniziamo subito con il Turkish Get Up, andremo aumentando il carico man mano facendone 5, 3, 2 e poi 3 singole, 1, 1, 1. A seguire un double kettlebell DT, cioè un DT fatto con 2 kettlebell e sono 5 round 4 time di 15 o 12 calories low, 12 deadlift, 9 hand power clean e 6 jerk. Carichi, pesi e tutto il resto sulla grafica qui di fianco, la settimana è finita, all'undi prossimo, ciao!